Dopo il primo atto della stagione Juniores alla California la settimana scorsa in provincia di Livorno è il momento della prima rivincita stagionale sul circuito del tracciato del 53esimo Gran Premio Artigianato e Commercio Stabbiese organizzazione a cura del gruppo sportivo Stabbia sotto la regia del presidente Fabio Borgioli di Luciano Benvenuti e dei loro collaboratori una manifestazione che era gruppata in una sola giornata dagli esordienti fino all'Iuniores noi stiamo seguendo adesso la gara dell'Iuniores una rivincita che però non è arrivata perché dopo la doppietta ottenuta la settimana scorsa con il successo di Samuele Manfredi ed il secondo posto di Gabriele Benedetti la firma della romagnano Mamis Caffè Guerciotti anche questa volta sono i corridori diretti da Matteo Berti ad essere grandi protagonisti nel finale di corsa una cronocoppia possiamo definirla quella che hanno messo in piedi negli ultimi chilometri Omar Marouan e Gabriele Benedetti che se ne sono andati e stanno pedalando verso il traguardo di Stabbia davvero fortissimi gli atleti della formazione massese che ancora una volta non hanno avuto rivali in questo secondo atto della stagione 2017 cambi regolari ed andatura molto sostenuta in testa alla corsa questa coppia che ormai si appresta a concludere la prova entriamo tranno molto con le telecamere fisse ma dicevamo un successo quello degli uomini del romagnano Mamis Caffè Guerciotti che anche questa volta vede protagonista il giovane Gabriele Benedetti secondo alla California sette giorni fa e subito protagonista nella nuova categoria eccoci dalle telecamere fisse non ci credono neanche loro Omar Marouan e Gabriele Benedetti una cavalcata in coppia per andare a tagliare il traguardo in parata primo e secondo Omar Marouan vince il 53esimo Gran Premio Industria ed Artigianato Commercio Stabiese seconda posizione per Gabriele Benedetti entrambi della romagnano Mamis Caffè Guerciotti per quanto riguarda invece la terza posizione è appannaggio di Filippo Magli della società organizzatrice gruppo sportivo Stabia Ciclismo davanti a Stefano Lira dell'Industria e Forniture Moro quinto è Gabriele Matteucci della romagnano Mamis Caffè Guerciotti quindi Samuele Manfredi, Mattia Tabora, Niccolò Leoncini, Francesco Caroti e Geremia Fedeli